...del campionato Primavera 1, benvenuti a Milan-Roma. Satriano la protegge con il fisico, attenzione a Fenaghian che è velocissimo, Stanga cerca di tenerlo in velocità e lo ferma per un attimo, poi l'uscita di De Planc, Fenaghian lo salta, porta libera, ancora il numero 11 della Roma, il tiro in porta ed il gol della Roma, minuto 5 dunque, dopo il primo lampo di Capone, subito vantaggio Roma con Fenaghian. Ciacca Traorelli, limite dell'aria, lo scambio è ancora un fallo non fischiato di Gesù, va con il Mancino, grande gol! Il gol di Enrico Di Gesù! Bene così ragazzi, la mettiamo subito sul pari con una grandissima conclusione di Enrico Di Gesù, al minuto 13, palla all'incrocio dei pali, che bel gol di Enrico Di Gesù, gol spettacolare all'incrocio dei pali il Mancino, a giro. Zora centrale, si allarga Oliveras, molto servito sulla sinistra per ora. Bene in trenare di rigore, attenzione al numero 14, triplo dribbling, ancora il tiro, un gol incredibile, un gol incredibile di Oliveras. Un gol incredibile del terzino sinistro della Roma, che salta tutta la difesa del Milan, e incredibilmente prima del quarto d'ora già il terzo gol del match. Va con il destro Capone, traiettoria sulla barriera, è chiaramente fallo di mano, chiaramente fallo di mano. Eccolo qua, braccio largo, in due saltano con le braccia larghe, non si può fare. Ancora Traoré, la combinazione qui, il calcio di rigore che secondo me non c'era, siamo onesti fino alla fine, c'era tutta la vita quello precedente, questo non mi sembrava così netto, però la Roma non protesta, quindi potrebbe anche essere. Andiamo a rivedere l'azione. Traoré in area di rigore, l'intervento, si scontrano le gambe. Capitan Capone, contro Mastrantonio, parte Capone, destro e gol! 2-2, 2-2, che inizio di partita! Metà del primo tempo, già 4 gol da referto, il quarto è di Andrea Capone, per il nuovo pareggio del Milan. Primo pallone toccato da Jordan Pio Amore, è spedito sulla traversa! Incredibile occasione per il Milan! Robach per Di Gesù, torniamo dall'altra parte, che finale, Amore, area di rigore, il tiro e la palla che sfiora al palo! Minuto 94, grande occasione per il Milan, con Amore. E arriva il triplice, fischio dell'arbitro, dunque il Milan-Roma finisce 2-2, un match vivo e bello, intenso, fino a...